In Italia, come la maggior parte d'Europa, tra le discipline scolastiche non c'è il mare. Il mare è una piccolissima parte che si fa all'interno del programma di scienze. Noi oggi siamo qui per celebrare questa giornata, che tra l'altro è stata istituita con l'aiuto anche dell'UNESCO, per far capire alla governanza, cioè a coloro che gestiscono il territorio, a coloro che danno cultura, a coloro che sono soprattutto nella scuola, che è necessario, a coloro che ci governano poi in primis, creare la cultura del mare. Questo si può fare solo attraverso un'alfabetizzazione sul mare che inizia dalle scuole. Uno studio e un laboratorio sul paesaggio costiero, la cultura e la tutela. Per cui i ragazzi, attraverso la conoscenza del passato, preservano un futuro migliore e scrivono la storia nel futuro. In occasione delle celebrazioni odierne per la giornata mondiale degli oceani, oggi in sala giunta di Palazzo San Giacomo sono stati discussi i risultati del progetto di alternanza scuola-lavoro sul tema della tutela della risorsa mare, con un workshop dal titolo Paesaggio marino-costiero, cultura e tutela. Insieme con gli studenti del liceo scientifico Galileo Galilei, impegnati in un corso triennale per 200 ore sui concetti di dinamica della terra e del sistema mare, e gli esperti ricercatori dell'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli. L'alternanza scuola-lavoro nasce evidentemente come occasione per poi poter avere l'inserimento nel mondo del lavoro. Ora è evidente che noi non siamo in grado di favorire in modo immediato l'inserimento nel mondo del lavoro, ma la cosa molto importante è che i nostri allievi, attraverso delle iniziative di eccellenza come questa, possono conoscere il territorio, le problematiche del territorio, ma anche le risorse del territorio. E sabato prossimo, 8 giugno, dalle 10 alle 13, in Rotonda Diaz, è previsto inoltre un infopoint gestito dagli studenti per condurre i visitatori in un viaggio alla scoperta del paesaggio napoletano con il mare protagonista.